Nuovo appuntamento con Cibo e Dintorni, un appuntamento goloso, come diceva Hemingway se non sbaglio, si può resistere a tutto tranne che alle tentazioni. Ebbene i golosi come me in questa puntata di Cibo e Dintorni avranno pane per i loro denti, anzi cioccolato per i loro denti. Perché oggi iniziamo la trasmissione facendovi conoscere Caterina Gambardella, che è la titolare, anzi no, l'ideatrice, preferisco, di Nero Vesuvio. Un marchio di cioccolato esclusivamente nero, dunque fondente, nato da poco. Perché? Da quale idea, Caterina? Allora, innanzitutto io prima di essere ideatrice della Nero Vesuvio sono creatrice di gioielli, designer di gioielli. E da vent'anni collaboro con gioiellerie come Monetti, Gentile Più e altre gioiellerie in Italia. E quindi facendo una prova per un gioiello che emulasse San Gennaro, l'immagine di San Gennaro, e stampando questa immagine in 3D, mi è venuta l'idea di fare il cioccolatino. D'altronde un bel cioccolatino è davvero un po' un gioiello, no? Di un buffet o anche insomma di un ricevimento. Nel regalarlo, insomma, è importante. L'occhio vuole la sua parte. Sono cioccolatini da degustazione, assolutamente. Quindi l'occhio ha la sua capacità di apprezzare il disegno e poi il gusto, il palato, di degustare e di apprezzare il gusto del 78%, perché è un cioccolato fondente al 78% che proviene dall'Uganda. Quindi è un'eccellenza dell'Uganda. Caspita! Però perché, Caterina, la scelta di fare esclusivamente cioccolatini fondenti? C'è una scelta precisa? Beh, la scelta è quella di, diciamo, sicuramente pensare al benessere di chi mangia il cioccolato, perché un cioccolatino al 78% contiene tutte le proprietà... Benefiche, meravigliose. Benefiche, antiossidanti, ma sono anche dei tonici dell'umore, e quindi, diciamo, che uniamo l'utile al dilettevole, il bello anche al buono. Quindi, se io ti dovessi ripresentare adesso, dopo questa piccola intervista, io direi designer di cioccolatini. Ti piace come idea? Beh, designer di cioccolatini mi piace, sicuramente. Designer a 360 gradi, perché facciamo anche delle cose, voglio dire, oltre il cioccolato e anche oltre i gioielli, perché poi, alla creatività, poi non c'è... Non c'è mai fine. No, non c'è fine. Veramente. Un'ultima nota. So che avete fatto una scelta di non produrli in Campania, questi cioccolatini. Come mai? Perché abbiamo fatto una ricerca per produrre il cioccolatino in Campania, ma diciamo che l'artigianato del cioccolato in Campania non è molto diffuso. Sì, ci sono delle aziende che producono il loro cioccolato, ma io volevo un tipo di cioccolato che fosse al 78, ma nello stesso tempo conservasse una morbidezza al gusto. Chi anche, insomma, non mangia il cioccolato fondente potesse comunque mangiarlo. E quindi ci siamo rivolti a questa azienda molto importante, molisana, che si chiama Labbate Mazziotta. E il maestro cioccolataio è un giovane trentenne, Andrea. E quindi, insomma, nonostante la sua età, molto esperta. Sì, insomma, nonostante la sua età, molto esperta.